Musica Un nuovo appuntamento con il tv giornale di Telestense e tante anche questa sera le notizie di cui ci occuperemo. Torneremo sulla cronaca perché c'è una nuova aggressione in GAD, malmenato perché rifiuta droga. Intanto mercoledì ci sarà il comitato sicurezza in prefettura dove si parlerà di queste problematiche. Ma questa sera ci occuperemo anche di meteo, in particolare di allerta ghiaccio in tutta Emilia-Romagna. E poi faremo un'analisi anche sulla SPAL, due settimane di fuoco quelle che attendono i bianco-azzurri. Ma cominciamo questa sera parlando di un problema, quello delle case famiglia, un problema che cresce a Ferrara. È una giungla di contatti che nascondono gravi sfruttamenti lavorativi e non sono a norma per la cura e l'assistenza delle persone anziane. Questo appunto l'allarme è lanciato dalla funzione pubblica della CGL di Ferrara. Sentiamo. Si chiamano case famiglia. Per aprirle è sufficiente disporre di un edificio ad uso abitativo ed una semplice comunicazione di apertura. Attività al comune dove sorge la struttura. Dovrebbero ospitare anziani autosufficienti o disabili senza particolari bisogni assistenziali, ma per molte realtà esistenti sul territorio svolgono le stesse funzioni di una RSA o di una casa di riposo. Praticamente le case famiglia sono degli appartamenti, delle abitazioni private, nelle quali vengono accolti fino a un massimo di sei anziani. Dentro queste case famiglia troviamo un grosso problema dal punto di vista di sfruttamento lavorativo, nel senso che vengono utilizzate delle lavoratrici, nella maggioranza dei casi straniere, e dove vengono fatti dei contratti a volte che non centrano assolutamente nulla con il lavoro di cura. Quindi andiamo da contratti dei ferrotranvieri, contratti di tipo alberghiero e anche laddove ci fosse un contratto inerente con il lavoro di cura e assistenza, in realtà vengono inquadrate con il livello più basso assoluto e magari con un contratto a part time di 18 ore settimanali, 24 ore settimanali, quando in realtà fanno un lavoro che è di 24 ore al giorno. E addirittura fino ai casi più gravi dove troviamo dei contratti stipulati all'estero e con una retribuzione quantificata all'estero e che non vengono assolutamente equiparati con le condizioni, i diritti e la retribuzione italiana. Chi si occupa della cura e dell'assistenza degli anziani sono badanti e lavoratrici straniere, vittime di un grave sfruttamento lavorativo e che sempre più si rivolgono alla CGL. Il sindacato di Piazza Verdi, oramai da mesi, segue un problema che rischia di esplodere da un momento all'altro. Dalla nostra analisi il problema riguarda tutta Ferrara e provincia, tutto il territorio ferrarese e per quello che sappiamo noi oggi ci potrebbero essere circa 80 case famiglia su tutto il territorio. Considerando che ogni casa famiglia può contenere 6 persone, parliamo di 480 anziani fuori controllo sostanzialmente. Per capire quanti sono 480 anziani pensiamo che l'ospedale di Cona ha 700 posti letto, per cui si capisce che il fenomeno, a nostro avviso, sta diventando di dimensioni importanti, per cui va assolutamente cercata una soluzione a questo problema. E come anticipato in apertura adesso la cronaca, perché c'è stata ancora un'aggressione in zona GAD, per fortuna meno violenta di quella avvenuta lo scorso giovedì ai danni di una ragazza, chiare acceso il dibattito sulla sicurezza nell'area, i particolari nel servizio. Non voleva acquistare droga e per questo, almeno stando alla sua ricostruzione, è stato aggredito da alcuni pusher. È successo sabato sera nei giardini fra Viale Costituzione e Viale Poa Ferrara, dove un uomo che stava passando con la sua bicicletta è stato prima avvicinato da un uomo di colore che gli ha proposto di acquistare stupefacenti. Poi, davanti al suo rifiuto, con l'aiuto di altri due pusher, è stato aggredito. Alla vittima, che subito dopo è riuscita a fuggire, chiamando il 113, è stata anche rubata la bicicletta. Un'aggressione, per fortuna, meno violenta rispetto a quella dello scorso giovedì, di cui è stata vittima una giovane ragazza di 32 anni, avvicinata da 5 persone in piazza 25 Maggio. La giovane è stata appicchiata e derubata dei 500 euro che aveva nella borsa. Sull'accaduto sta ancora indagando la squadra mobile di Ferrara. C'è preoccupazione da parte di tutta la città e anche del sindaco Tagliani per la questione sicurezza in zona GAD. Mercoledì ci sarà infatti un tavolo in prefettura e intanto le opposizioni attaccano l'amministrazione comunale che attraverso l'assessore alla sicurezza Modonesi cerca di capire che cosa si possa fare e dove si è sbagliato, rinnovando però l'auspicio di vedere nella zona più volanti. Sentiamo. Non solo garantire ma anche intensificare la cosiddetta operazione martellamento in zona GAD. E questa è la richiesta che il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani avanzerà nel corso del prossimo incontro del Comitato sulla sicurezza che mercoledì dovrebbe riunirsi in prefettura. Preoccupato per la ripresa dopo un periodo di maggiore tranquillità delle aggressioni avvenute in zona Giardino, il primo cittadino ha pubblicamente dichiarato che la continuità con quell'operazione che durante i mesi estivi e autunnali aveva dato i suoi frutti deve essere garantita e anche intensificata. E le proprie preoccupazioni nei giorni successivi all'aggressione della giovane donna, picchiata e derubata in piazza 25 maggio lo scorso giovedì, le ha espresse anche l'assessore alla sicurezza Aldo Modonesi attraverso il proprio profilo Facebook. Oltre ad esprimere la propria vicinanza alla vittima della rapina, Modonesi si domanda anche però dove l'amministrazione possa aver sbagliato e che cosa si possa fare, aggiungendo poi che da parte delle forze dell'ordine ci debba essere il massimo sforzo per individuare gli aggressori. Lo pretendo, scrive Modonesi, anche perché abbiamo con i soldi del Comune riempito il quartiere di telecamere, abbiamo portato l'esercito nel quartiere, abbiamo investito centinaia di migliaia di euro in potenziamento dell'illuminazione. Lo penso, lo pretendo, conclude poi l'assessore che confessa di aver voluto vedere più volanti nella zona, perché su questo fatto è giusto fare chiarezza ed è giusto che chi ha compiuto questo reato venga preso e punito, ma anche per evitare strumentalizzazioni ed evitare di rispedere il buon lavoro fatto negli ultimi mesi da Questura Forza dell'Ordine Polizia Municipale. C'è però anche chi si scaglia contro l'amministrazione comunale, come il consigliere Marcucci del Movimento 5 Stelle Ferrara, che auspica da un lato le dimissioni dell'assessore alla sicurezza e sottolinea al sindaco Tagliani che non si sta assistendo ad una ripresa delle aggressioni, ricordando diversi episodi violenti avvenuti in GAD nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Il problema c'è come c'è sempre stato, afferma Marcucci, e non è svegliandosi adesso che ci si lava dalle proprie colpe. Dura la presa di posizione del segretario comunale della Lega Nord, Nicola Lodi, che chiede le dimissioni di Modonesi, colpevole a suo dire di non aver fatto nulla per la sicurezza di quella zona, è un intervento massiccio dello Stato con aumento dell'esercito e un presidio fisso della Municipale in zona Acquedotto e al Grattacielo. Intanto, giovedì sera, la Lega Nord ha in programma una manifestazione alla quale invita anche il Sindaco Tagliani, al quale chiede di convocare un tavolo per la sicurezza in Consiglio Comunale al più presto. Cambiamo argomento, ma rimaniamo su un tema assolutamente caldo, perché appunto è proprio uno dei temi che oggi dividono il mondo imprenditoriale ferrarese, la scelta del prossimo Presidente della Camera di Commercio che nascerà dall'accorpamento di Ferrara e Ravenna. Il Sindaco dice dalle associazioni ferraresi mi aspettavo più unità e la Confederazione Agricoltori aggiunge per noi l'accordo su Paolo Govonicè ed è ancora vincolante. Sentiamo. Di fronte a una scelta importante come quella del nuovo Presidente della Camera di Commercio, le associazioni di categoria ferraresi non hanno saputo dimostrarsi unite. In altri contesti territoriali una cosa del genere quasi sicuramente non sarebbe accaduta. È piuttosto tagliente il commento del Sindaco di Ferrara sull'avvertenza che in questo momento divide il mondo imprenditoriale ferrarese, la presidenza della nuova Camera di Commercio nata dall'accorpamento degli enti camerali di Ferrara e di Ravenna. C'era un accordo tra le associazioni di categoria ferraresi per sostenere un nuovo mandato dell'attuale Presidente di Ferrara, l'imprenditore Paolo Govoni che viene dalla CNA provinciale e regionale. Ascom e Confesarcenti, le associazioni del commercio si sono sfilate da questo accordo ed ora appaiono orientate a sostenere il Ravennate Paolo Guberti, direttore dell'Ascom a Ravenna. Almeno su questo mi aspettavo più coesione da parte delle associazioni di categoria ferraresi, conclude Tagliani. La Camera di Commercio di Ferrara in questi anni ha ottenuto risultati che le hanno procurato notorietà e stima a livello nazionale, spiega Davide Bellotti, Presidente della CNA di Ferrara. Paolo Govoni, come Presidente dell'ente camerale, ha reso possibili questi risultati e è stato un protagonista. Inoltre è un imprenditore, non un dirigente e anche questo lo rende più adatto a questo tipo di incarichi. Bellotti sottolinea per noi l'accordo resta valido e su questo punto si trova d'accordo con un esponente di primo piano del mondo agricolo, il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Stefano Calderoni. Per noi l'accordo a sostegno della Presidenza Govoni c'è ancora e resta vincolante. L'accordo tra Ascom e Confeggiarcenti per sostenere una Presidenza Ravennate alla nuova Camera di Commercio è una brutta pagina per Ferrara, ha scritto in questi giorni il direttore di Confartigianato Ferrara Giuseppe Vancini. Tutti invochiamo unità, dice Vancini, salvo poi non attuarla al momento richiesto. Si è data la prova di una mancanza totale di coesione, si sono traditi i progetti. Rimaniamo sempre in Camera di Commercio dove c'è stata una conferenza stampa questa mattina in cui si è parlato di un bando per rilanciare il territorio di Codigoro. Il tutto, dicevo, annunciato proprio questa mattina ma i particolari li sentiamo nel servizio. Sono oltre un migliaio le imprese che hanno sede nel territorio del comune di Codigoro. Il 23%, 273 aziende appartengono al settore agricolo, il 14% appartengono al settore commerciale mentre il 14%, 172 aziende appartengono al settore delle costruzioni. Seguono gli altri settori, 8% di aziende manifatturiere, quasi l'8% nel settore alloggio e ristorazione. Sono tre i settori in crescita stando ai dati diffusi dalla Camera di Commercio di Ferrara, quello dell'informatica e dei computer che a dicembre 2017 cresce del 15,4%, il settore del trasporto in crescita del 3,2% e le costruzioni che dopo anni di crisi mostrano segnali di crescita pari al 4,9%. Oggi è stato presentato un bando di concorso rivolto alle imprese promosso dal comune di Codigoro in collaborazione con la Camera di Commercio che punta all'abbattimento dei costi per il rinnovo delle attrezzature, all'installazione di sistemi di videosorveglianza, all'acquisto di arredi funzionali, all'attività aziendale, ma anche alle attività di pubblicità e comunicazione. Le domande di contributo fino a 2.500 euro a fondo perduto per ciascun progetto presentato che dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2018 saranno ammesse sino al desaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine cronologico di spedizione delle domande. Comune di Codigoro e Camera di Commercio in collaborazione con Sipro e con associazioni territoriali di categoria assisteranno l'investitore nelle diverse fasi di realizzazione del progetto. E adesso invece parliamo di scuola e in particolare di scuola che cambia perché all'Istituto Tecnico per Geometri a Leotti di Ferrara sabato scorso è stato presentato un nuovo corso che guarda al futuro e al sostegno del territorio ferrarese ma non solo. Sentiamo. Nasce a Ferrara la nuova figura professionale di tecnico delle acque. un nuovo diploma dell'Istituto a Leotti che Ferrara, cittanata sull'acqua affida alla formazione delle nuove generazioni le competenze necessarie per affrontare tutte le problematiche legate a questo elemento vitale. Sabato pomeriggio la figura del tecnico delle acque esperto in gestione è stata presentata a studenti e genitori ma da anni da quando il settore delle nuove costruzioni ha registrato un forte rallentamento a causa anche della crisi economica all'Istituto per Geometri a Leotti si è puntato molto anche sulla riqualificazione del patrimonio esistente. Tra l'altro è il terreno comune di un istituto che mette insieme Geometri al liceo artistico l'obiettivo è la riqualificazione del territorio la regione ha stabilito che nel nostro territorio non si costruisce più di nuovo non si fanno altre villette altre cittadine si rimette in sesto si riqualifica un tessuto urbano che è ricchissimo è ricchissimo il tessuto naturale è ricchissimo il tessuto artistico insomma Ferrara guardiamoci intorno è chiaro che è fondamentale qui le competenze del diplomato CAT quello che poi potrebbe in futuro diventare un geometra sono indispensabili come sono indispensabili le competenze del tecnico delle acque che è il nuovo corso che stiamo avviando che è sostanzialmente complementare a quello del CAT noi abbiamo intenzione di rinnovarci abbiamo presentato un progetto per l'attivazione di un corso di un istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio quadriennale e entro il mese di dicembre otterremo una risposta dal ministero il nuovo corso del tecnico delle acque ha dato nuovo slancio all'offerta formativa della Leotti ovviamente questa nostra convinzione è nata da un territorio come quello ferrarese che ha bisogno di una rivalutazione della risorsa acqua è stata una proposta che arrivata dal ministero abbiamo colto a volo perché riteniamo di avere le professionalità giuste l'esperienza giusta la spinta per affrontare una sfida l'istituto negli ultimi anni ha registrato un calo degli iscritti un trend constatato anche a livello nazionale per gli istituti per geometri la nostra è una scuola in cui il rapporto umano è molto seguito siamo in numero ridotto questo permette di agevolare anche i ragazzi nell'apprendimento perché si possono seguire molto meglio i vari argomenti e anche in caso di difficoltà i ragazzi vengono sicuramente seguiti con un'attenzione, una presenza a parte dei docenti importante grazie al numero ridotto un altro grosso vantaggio è la possibilità di andare di accedere sempre ai laboratori abbiamo sempre dei laboratori a disposizione e fin dai primi anni si iniziano subito le materie come disegno tecnico che permettono poi di affrontare un domani un futuro anche di carattere professionale ci scusiamo per il piccolo errore di grafica la professoressa si chiama Distasio adesso cambiamo argomento oltre 2000 firme raccolte nell'arco di due mesi dai dipendenti della cooperativa al Germoglio durante varie manifestazioni in città e non solo sono state consegnate oggi al sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani dalla presidente della cooperativa Sabrina Scida dal direttore di Conf Cooperative Ferrara Ruggero Villani altre 5 buste contenenti le firme saranno inviate ad altrettanti interlocutori istituzionali tra cui la regione e il ministero del lavoro come si sa la cooperativa Germoglio ha di recente perduto l'appalto con l'Ausl per la distribuzione degli ausili alle persone non autosufficienti la cooperativa impiegava per questo 14 dipendenti una parte dei quali disabili e solo 7 di quei 14 sono stati riassunti dall'azienda che si è aggiudicata al nuovo appalto l'appello lanciato dalla cooperativa alle istituzioni è chiaro gli appalti non possono avere come unico criterio quello del prezzo più basso ma devono tenere conto della territorialità ma anche dell'investimento e del valore sociale che il lavoro ha soprattutto nei confronti di persone disabili che con il lavoro conquistano autonomia adesso invece parliamo di meteo perché è in corso un'allerta gialla per ghiaccio fino a mezzanotte diffusa dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali del centro funzionale Arpa E Emilia Romagna l'allerta riguarda l'intero territorio regionale un afflusso di aria fredda dal nord Europa e la rimonta del campo di alta pressione determinano tempo stabile con cielo sereno scusate queste condizioni meteo comportano temperature al suolo sotto lo zero e gelate diffuse sull'intero territorio regionale e ricordiamo che il fenomeno è previsto stazionario nelle successive 48 ore l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile in stretto accordo con Arpa E Emilia Romagna seguirà l'evoluzione dei fenomeni adesso invece parliamo di un appuntamento per mercoledì 6 dicembre quando si terrà in Camera di Commercio un convegno che parla di appalti pubblici e delle conseguenze dell'entrata in vigore del codice avvenuta 18 mesi fa a organizzarlo è la Cassa Edile di Ferrara il servizio la Cassa Edile di Ferrara organizza un convegno in programma mercoledì 6 dicembre in Camera di Commercio chiamato appalti pubblici di lavoro 18 mesi dopo l'entrata in vigore del codice una iniziativa che ha origine nel 2014 specificamente dall'ottobre del 2014 quando le tre Cassa Edile di Ferrara una industriale una artigiana e una cooperativa hanno deciso di fondersi con una certa lungimiranza questo ha portato diversi benefici ma ha fatto sì anche che la Cassa Edile unificata diventasse una sorta di osservatorio privilegiato del mondo dei lavori delle costruzioni nella nostra provincia Ferrara è al centro di un dato contrastante dove ad essere penalizzate sono le imprese locali nella crisi generale del settore si parla di meno 45% in termini di fatturato di imprese di lavoratori a livello nazionale la provincia di Ferrara tiene perché questo 45% vale circa meno 28% infatti la Cassa Edile tutto sommato sta anche abbastanza bene nella nostra provincia quelle che non stanno bene sono le imprese ferraresi nel panorama generale dei lavori che avvengono nella nostra provincia le imprese ferraresi calano inesorabilmente da qui l'idea di proporre alcune iniziative sono sorte due iniziative una di tipo culturale che è una storia delle costruzioni nel nostro nel nostro territorio e questo convegno incentrato sugli appalti pubblici al centro del contendere il decreto legislativo 50 2016 che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi forniture lavori e opere nonché i concorsi pubblici di progettazione non riteniamo che questa sia una buona legge vorrei dire che è una cattiva legge fatta in fretta scritta male e imbarazzante per gli enti appaltanti e nociva per le imprese numerosi gli interventi in programma al convegno a cui parteciperà anche il sindacato il ruolo del sindacato nell'ambito del convegno riveste essenzialmente nel fatto che noi vogliamo rimarcare che la cassa edile è un ente bilaterale che ci proviene dal contratto è un organo che sostanzialmente è lì a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e sulle retribuzioni dei lavoratori quindi fare una buona legge che sia applicabile in trasparenza sicuramente avvantaggia anche la condizione lavorativa dei lavoratori perché troppi sono le anomalie che stanno dentro al settore all'incontro di mercoledì 6 dicembre seguiranno prossimamente due momenti di approfondimento concepiti come laboratori formativi e adesso invece parliamo di spettacoli e beneficenza perché è stato un successo ieri al teatro comunale di Ferrara il concerto della fanfara del comando prima regione aerea di milano cui ha partecipato anche la squadra di ginnastica ritmica con le campionesse olimpioniche una serata appunto benefica come dicevamo poco fa organizzato dal comando operazioni aeree di poggio renatico i fondi raccolti sono andate a tre associazioni ad o ferrara vola nel cuore e la fondazione del teatro comunale di ferrara il servizio comandante si è appena concluso il concerto una giornata importante per la beneficenza ed importante anche per il co sì molto importante direi per la beneficenza il comando operazioni aeree è stato sicuramente felice di organizzare questa serata per la città di ferrara e per le associazioni che fanno appunto del volontariato la loro missione la missione del comando operazioni aeree garantire la difesa dei cieli italiani e la sicurezza i miei uomini e le mie donne hanno lavorato molto per questo concerto e credo che come abbiamo sentito dai presidenti e le dottoresse presidenti delle associazioni ADO vola nel cuore fondazione teatro abbiamo dei progetti importanti che avvengono sul territorio di ferrara e della provincia progetti che sono partiti lontano nel tempo e che vanno proiettati nel futuro e quindi il sostegno che questo concerto potrà dare grazie all'aiuto di tutti i cittadini ferraresi degli sponsor credo che consoliderà queste imprese che vanno verso chi ha meno fortuna di noi e che soffre e che ha bisogno quindi del nostro sostegno morale ma anche materiale sul palco non c'era solo la musica questa sera? beh questa sera abbiamo provato ad avere una varietà di spettacolo anche perché la città di Ferrara è una città che ama lo sport apprezza quindi le esibizioni e abbiamo avuto quindi la nostra squadra di ginnastica ritmica che è arrivata appunto da Roma da vicino Roma da Vigna di Valle e si è esibita a tutte campionesse mondiali olimpioniche che ancora appunto amano diffondere il loro sport in tutte le città d'Italia e poi l'ospite d'onore la soprano Giuliana di Giacomo che sicuramente ha un livello internazionale abbiamo avuto la fortuna di averla qui con due brani stupendi che hanno riscaldato l'atmosfera natalizia e poi naturalmente la fanfara la fanfara che dire giovanissimi vengono da Milano la fanfara della prima regione aerea hanno nel loro corpo anche sei allievi ormai prossimi al diploma del conservatorio di Milano anche questa è una bella iniziativa potremmo chiamarla scuola lavoro non lo so però portare i giovani in concerto nelle città d'Italia credo che sia un'altra impresa meritoria dell'aeronautica militare ma in particolare della fanfara della prima regione aerea di Milano il maestro Maciomei è stato eccezionale ci ha presentato un programma brillante moderno e molto apprezzato dal pubblico quindi è stata veramente una bella serata e ringrazio Telestense che ci ha seguito come sempre fa in queste occasioni intanto vi ricordiamo che proprio su Telestense potrete vedere questo concerto nella serata di Natale quindi il 25 dicembre alle ore 22 adesso invece parliamo di sport in particolare di calcio perché domenica 10 ma anche domenica 17 dicembre saranno due giornate particolarmente importanti per la SPAL che ricordiamo affronterà sia il Verona che il Benevento vediamo il servizio dopo la sconfitta a Roma per la SPAL arrivano due settimane in cui si gioca molto per quanto riguarda la classifica il risultato è l'andamento delle due gare in programma con Verona e Benevento prima di chiudere l'andata con il Torino e sul campo della Sampdoria chiarirà una volta per tutte il reale potenziale del gruppo bianco-azzurro punti importanti per la squadra estense che si dovranno incrociare con i risultati che potrebbero arrivare dagli altri campi dopo i posticipi di lunedì 4 dicembre alcuni confronti di rilievo saranno quelli tra Sassuolo e Crotone e tra Udinese e Benevento nella giornata del 10 dicembre e ancora il match tra Crotone e Chievo nella stessa domenica in cui il Genoa affronterà la Fiorentina ed il Verona ospiterà il Milan diversi aspetti che potrebbero condizionare una classifica dove la SPAL dovrà cogliere l'occasione per portare punti e riguadagnare terreno in classifica il tutto sotto il vigile a sguardo di proprietà e dirigenza tecnica che dovrà operare di concerto sul mercato con l'obiettivo di mettere semplici nelle migliori condizioni possibili per tagliare il traguardo della salvezza ovviamente da non perdere questa sera l'appuntamento con Lunedisport invece vi ricordo il nostro sito internet telestense.it e la possibilità di seguirci anche con i social network siamo su Facebook Twitter Youtube e Instagram grazie dunque per averci seguito anche in questo appuntamento che rinnoviamo alla prossima edizione Grazie a tutti